Prima di procedere ad un accesso agli atti per avere conferma che la società Ecostema SRL, che sarebbe praticamente la prima società giudicataria del bando per il completamento della bonifica dell'area ex-eticosa, ha promosso il ricorso al TAR. Quali sono i tempi per l'indizione della nuova gara? La decisione assunta dal dirigente del settore appalti di procedere all'annullamento della gara è stata condivisa con lei e il segretario generale e quando verrà indetta la commissione sulla questione bando-ticosa. Sono gli interrogativi che il consigliere Ada Mantovani ha rivolto ieri sera in consiglio comunale al sindaco della città Mario Landrescina e all'intera amministrazione sul pasticcio che riguarda il bando dell'area ex-eticosa di Como. Si tratta dell'ennesimo passaggio di una bonifica infinita all'ultima porzione di terreno, la cosiddetta cella 3, l'area che si trova dietro all'edificio della Santarella. Attualmente il procedimento di annullamento in autototela degli atti di gara relativi al bando per affidare i lavori di bonifica si è concluso. Fino al termine del mese di maggio fanno sapere da Palazzo Cernezzi è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia da parte delle aziende che hanno partecipato al bando. Il pasticcio della gara potrebbe infatti aprire la strada a possibili contenziosi, mentre in comune tra accuse, errori tecnici, vizi di carattere sia formale che sostanziale ancora non sono state individuate le responsabilità di un bando sbagliato. Errori che, come detto, hanno portato all'annullamento della gara da oltre 4 milioni di euro per la bonifica dei terreni dell'ex tintostamperia, la cui conseguenza è evidente. Tempi e costi aumentati, un anno perso e ancora tutto fermo, con l'ennesima amministrazione di turno impantanata nell'annosa questione che riguarda l'ex ticosa di Como.